Buongiorno a tutti, sono Federico Casadei, ho 26 anni e sono attualmente studente presso il Master di Armada Boris in Marketing e Management dell'Industria Farmaceutica. Proprio grazie al Master sono stato assunto per una posizione di stage in un'azienda leader nel settore italiano di trade, marketing e retail. Ho deciso di frequentare questo Master perché ho sempre avuto come obiettivo quello di entrare a far parte di un'azienda farmaceutica in ambito marketing e poiché il taglio diretto proposto da Armada Boris dà da una parte una competenza teorica e dall'altra pratica immediatamente spendibile appunto nel mondo del lavoro poiché le aziende cercano comunque professionisti e risorse che siano già pronti e sapere già cosa bisogna fare all'interno di un contesto farmaceutico. Il Master inoltre è stato un'occasione utile per crescere sia professionalmente che soprattutto personalmente. Infatti all'interno di diversi moduli proposti dai docenti, anche loro o comunque professionisti affermati nell'ambito farmaceutico è stato dato molto spazio alla comunicazione, una componente importante, una componente trasversale con tutti i vari percorsi all'interno delle aziende e diciamo anche che come saper comunicare è un aspetto importante che viene appunto evidenziato all'interno dell'attività teorica di questo Master. Quanto riguarda le attività prettamente pratiche, i docenti ci hanno fornito interessanti spunti come ad esempio avere un piano d'azione pronto per quanto si volesse iniziare questo tipo di carriera professionale come formatore farmaceutico, sviluppando appunto i temi della comunicazione e dell'ascolto oppure come essere, possiamo dire, efficacemente ritrovati su profili social in ricerca appunto dei personali e risorse su LinkedIn. Come termine della mia presentazione, la presentazione appunto del Master in Marketing Management di Alma Laboris tengo a ringraziare l'encomiabile supporto e il lavoro del servizio placement gratuito rivolto a tutti i partecipanti al fine di migliorare quella che è la propria spendibilità curricolare e di far matching con tutte le occasioni proposte dal mondo del lavoro farmaceutico e per quanto riguarda l'immensa disponibilità appunto anche proprio per attività di comunicazione, di dubbi quindi ringrazio soprattutto la dottoressa Ima Vino e il dottor Maurizio Del Gaudio. Tendo anche a ringraziare, ultima e non ultimo, la coach Lorenza Moscarella che è stata per me modello di ispirazione su come abbandonare quella che è gli ormeggi e quindi della propria comfort zone per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per qualunque tipo di contatto, domande eccetera, vi potete rivolgere a me anche attraverso il profilo LinkedIn e saprò sicuramente cercare di aiutarvi e, come è successo a me, di darvi alcune importanti informazioni o qualunque informazioni che riteniate opportuno per l'aumento della vostra crescita professionale attraverso appunto il master di Armalabors. Un saluto a tutti!